Potremmo dirci abbastanza soddisfatti come Confindustria, come Facebook, adesso ce lo dirà meglio Luca, però credo che siamo contenti, insomma è stato un esperimento che è arrivato a metà della prima tazza, potremmo dirci è stato un bel esperimento. Adesso appunto soddisfatti, al pranzo direi che ci siamo arrivati, vediamo di arrivare appunto alla cena, però diciamo che le permesse ci sono tutte, mi sembra che appunto, come ha detto Marco, quegli argomenti toccati fossero proprio in linea con quello che è un po' l'obiettivo, far vedere il digitale non da player digitali, ma da soggetti che sono almeno da, diciamo, sono lontani per quello che è diciamo la loro attività principale. Quindi questo è credo quello che a me serviva, quello che volevamo un po' raccontare, credo che sia un po' passato questo messaggio e ha aiutato proprio a sensibilizzare le persone in sala, che sono aziende che magari sono lontane ancora da digitale, sensibilizzarle a comprendere meglio di questo fenomeno, che è qualche cosa dal quale sempre di più non si potrà prescindere. Per cui, questo ci vediamo magari più tardi, non lo so se è previsto un'altra tappa, però sicuramente al momento siamo molto contenti. Le persone in sala, i feedback calcati fino ad adesso, mi sembrano positivi. Sì, 2500 iscritti, 1500 partecipanti circa in sala, quindi direi che siamo contenti. Poi se avete qualche domanda, curiosità, approfondimento, fino ad adesso siamo chiaramente a vostra disposizione e siccome molti di voi abbiamo già avuto l'opportunità di chiacchierare questa mattina.